Volevo tranquillizzare i cittadini relativamente alla questione del covid. So bene che quantomeno dagli ultimi numeri che il comune fornisce e che ovviamente provengono da fonte sanitaria, quindi dall'USL per noi, è un andamento almeno definire un divago e quantomeno limitativo. Abbiamo visto degli sbalzi forti, degli sbalzi importanti e da ultimo una qualche settimana presenta su Castelvetro un apparente incremento. Mi pare di poter dire, scienza e coscienza, che non si tratta di elemento che debba destare preoccupazione alcuna, posto che è il risultato dei rilievi che fa la sanità e che noi semplicemente riportiamo, ma non ci sono elementi tali da destare, come dicevo, preoccupazione alcuna. Diciamo che l'incremento che c'è nelle segnalazioni di positivi è un incremento legato alla presenza di un paio di focolai scolastici che in quanto tali sono assolutamente controllati e visionati e presi a carico direttamente dal servizio sociale e quindi non c'è elemento di preoccupazione alcuna.